La ripresa economica dei piccoli centri dell'entroterra passa per certi versi anche dalla capacità dell'uomo di cogliere al volo opportunità che vi si presentano. A sfruttare una di queste è stata l'amministrazione comunale di Civitella Casanova, comune della provincia di Pescara, che giovedì scorso ha incontrato i responsabili della ditta Gazzoli, circa l'apertura sul territorio comunale di un laboratorio di taglio ed orlatura a tomaie per calzature. Sì, stiamo cercando di portare avanti un discorso con questa azienda storica di scarpe, sperando che in qualche modo si riesce a concretizzare questo percorso iniziato ormai da qualche mese. Sarà sicuramente, se tutto andrà bene, una svolta non solo per Civitella ma anche per tutti i paesi limitrofi. A causa del ridimensionamento di alcune aziende storiche sul territorio sono stati numerosi gli intervenuti all'incontro pubblico, per conoscere il nuovo progetto lavorativo dell'impresa marchigiana. Causa molta richiesta di lavoro, stiamo cercando personale in questo territorio dove da qualche mese abbiamo avuto rapporti con il sindaco di Civitella. C'è un progetto da poter sviluppare, questo progetto prevede l'assunzione di almeno 60-80 persone.